Oggi ci troviamo a Rocchette e Rocchettine Situati in uno dei luoghi più suggestivi della Sabina, i prensicamenti fortificati ai generi del XIII secolo, Rocchette e Rocchettine, dominano una pronta gola scavata nella luce alla fine. Le due fortezze, anticamente denominate Rocca Bertaglia e Rocca Bilonesca Rocchettine, furono costumite allo scopo di proteggere l'importante arteria che le mette per comunicazione piedi con la valle del XIII secolo. Allo stato di abbandono di Rocchettine si controppone l'importabilità dell'altra, rimasta immune dallo scorrere del tempo e tuttora abitata. Musica 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 Grazie a tutti.